Musica Musica Perché è non normale E credo che questo sia qualcosa da con il cambiamento climatico E tutti non lo deniu Sono qui Questo sarà il risultato Mi sembra Quindi 1.87 Io non l'ho mai visto nella mia vita E in più con quel vento spaventoso c'era proprio un uragano una roba, guardi una cosa proprio brutta, scusatemi. Paese, maschere, piatti, come che siamo ridotti qua, da piance, da piance. Grazie per la visione.